Allora, questo titolo, perché si devono amare i bambini, non c'è un punto interrogativo. Perché si devono amare i bambini, si devono ascoltare, si devono capire, si devono rispettare, ci dobbiamo credere nei bambini. Il potere del contatto è dell'ostitucina, in che senso contatto? Nel senso che nella nostra cultura abbiamo bisogno di un grosso cambiamento, anche prima abbiamo parlato di cambiamento. Il cambiamento tante volte spaventa, come nel parto, non ci si prepara al parto, vi do una brutta notizia. Cioè si possono fare tante cose, conoscere tante cose, però nessuno sa prima come sarà il suo parto. Perché si vive, perché le emozioni si vivono e la vita con i nostri bambini si vive. Quelli che magari sono proprio nostri che li abbiamo generati, ma anche quelli che incontriamo, anche i bambini che eravamo. Quindi, perché il contatto? Il contatto è un qualcosa che nella nostra cultura italiana, ma soprattutto occidentale, viene considerato un vizio. Quindi il bambino troppo in braccio, il bambino che dorme vicino ai genitori, addirittura nello stesso letto, che sta attaccato troppo al seno, è un bambino viziato, figlio di genitori, che non sono in grado di dargli le regole. Allora noi abbiamo bisogno di un cambiamento, abbiamo bisogno di un cambiamento che rispetti i bisogni e i sentimenti non solo dei bambini, ma delle persone. Noi qua oggi siamo a un TEDx, quindi io ho un'idea innovativa, ma l'idea innovativa secondo me è anche molto banale, che è quella di credere ognuno in noi stessi e di mettere al centro le persone a qualsiasi età, non le professioni. Io sono una psicologa, ho scritto tre libri, sto scrivendo il quarto, ma mi ritengo un mezzo, un mezzo per la conoscenza, in questo caso della fisiologia. C'è anche tanto altro, ma di fisiologia si parla poco. E per questo vi racconto due minuti della mia storia. Io a tre anni, poi magari mi commuovo, che avrei voluto lavorare con i neonati. E proprio percepivo già la voglia di stare insieme ai neonati, perché mi sono sempre piaciuti tantissimo. Qui in sala c'è una signora che conosco molto bene, che mi ha detto di essere diventata nonna a 52 anni. Io ne ho 50, ho detto mamma, ho due figli, una di 14, una di 10, quanto mi ci vuole ancora, no? Tantissimo di sicuro. Quindi, dopo di questo è successo che io ho fatto l'elementare, ho fatto le medie, ho fatto il liceo scientifico, sono pure bocciato un anno, ma sono finalmente arrivata a medicina, perché volevo fare la neonatologa. Poi però non mi potevo mantenere agli studi, dovevo lavorare. E allora, facendo la babysitter e imparando tantissimo dai bambini e dalle mamme, col quale ho avuto l'onore di lavorare, sono passata a psicologia a Roma, facendo delle corse incredibili, prendendo il treno la mattina alle 7, andando a dare l'esame, poi alle 4 andando a prendere i bambini a scuola. E quindi sono arrivata a poi avere questa benedetta laurea in psicologia dell'educazione e dello sviluppo, volendo però fare qualcosa di diverso da quello che avevo studiato. Quindi ho detto, ma sarà giusto quello che ho fatto. Perché mi interessavano ancora i neonati, e io di neonati non avevo studiato niente alla mia facoltà. Non avevo studiato l'allattamento, non avevo studiato il sonno. E allora che cosa è successo? È successo che ho pensato proprio che ci voleva un grosso cambiamento, un cambiamento dovuto anche alla mia esperienza a quel punto di studi. Ma non solo un cambiamento sulla carta, un cambiamento proprio di trasformazione, di processo. Tante volte si pensa di dover imparare un metodo nuovo per cambiare, anche quando siamo genitori. In realtà bisogna guardarsi dentro, molto spesso il cambiamento nasce proprio da dentro di noi. E quindi quando sono nate queste due, riarriva la commozione. La prima soprattutto, questo dovrebbe essere un puntatore, ma non funziona, quella di destra che si chiama Bianca, è arrivato il mio vero tsunami. Non mi è servito nulla di quello che avevo fatto, giuro. Perché è arrivato l'amore, è arrivato un qualcosa di travolgente. È arrivato il dover essere H24, sette giorni su sette, 365 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno a disposizione. Essere chiamata in qualsiasi momento del giorno e della notte. Un amore incredibile che però tante volte c'è anche tante ambivalenze. Chi di noi, mamme, chi è mamma in questa sala, la sera sa che molto spesso non siamo riusciti a farci una, do, non l'avevamo concordato prima, funziona sempre. E dice ma le mamme sono tutte zozzone, scusate il termine toscano, no? No, è che mettiamo sempre prima loro, sempre, perché questo vuol dire amarli, no? Però tante volte ci dimentichiamo quelli che sono i nostri bisogni di mamme, di persone. E tendiamo a voler considerare loro, ma tendiamo anche a sentire tutto quello che ci dicono intorno. E quindi questo può creare un pochino di confusione. Quindi dopo che è nata appunto la mia bambina, sono passati tre anni, la bambina non dormiva, a me non mi avevano detto nulla che potevano esserci risvegli notturni, e io ho cominciato a studiare il sonno, mia madre mi diceva da bambina ma hai pianto il primo mese la notte da sola nella tua collina, poi non hai pianto più. E allora io adesso studio il sonno infantile e lo porto in giro per l'Italia. Ecco, forse, chissà, ha un senso allora, no? Aver pianto quel mese, il mio primo mese di vita. Ho scoperto un sacco di cose sul sonno infantile che in Italia però è un po' scomodo dire, perché quando portiamo un'idea nuova, un'idea che va controcorrente, siamo scomodi. Vi do questa bruttissima notizia, ma essere qui fa sì che abbia un senso anche questo, perché vuol dire che certe volte la scomodità interessa, interessa chi organizza, interessa chi è venuto e sinceramente ormai io ci credo proprio. Perché siamo scomodi? Perché chiediamo appunto un cambiamento, ma chiediamo una cosa ancora più profonda, la seconda bimba si chiama Irene, bisogna dirlo. Ecco, il cambiamento più profondo è entrare in contatto con questa bambina qui, che è la bambina che sono stata e con ognuno di voi ha dentro di voi il bambino che è stato. Perché quando nascono i nostri bambini ci riportano alla memoria, molto spesso è una memoria affettiva, non è una memoria molto spesso cosciente, ci riportano i vissuti che abbiamo vissuto, scusate il gioco di parole. E questo non è facile, perché molto spesso ci intortano, scusate il termine, con dei metodi, cioè te devi imparare che il bambino dorme la notte se te usi questo metodo, ma i bambini hanno bisogno di svegliarsi, fino a circa tre anni, è un'altra brutta notizia, vi sto dando un sacco di brutte notizie, ma questo qualcuno lo deve dire, e non sono solo io per carità, ci sono tantissime persone che adesso finalmente diffondono queste cose, ma se una mamma, quando diventa mamma, un papà, una famiglia, non è entrata in contatto con queste informazioni, poi pensa di essere sbagliata, cioè o è sbagliata lei o è sbagliato il suo bambino. E allora cosa nasce? Nasce il senso di colpa, che è una di quelle cose terribili, che più o meno tutti proviamo nella nostra vita, che è l'altra faccia della rabbia. La rabbia di solito è diretta verso l'esterno, il senso di colpa è diretto verso l'esterno, ma è la stessa cosa. Ecco, quindi entrare in contatto con i bambini che siamo stati significa capire meglio anche i bambini che incontreremo, non solo se li abbiamo generati. E allora cosa succede? Succede che io vi racconto quest'altra piccola cosa, mio padre, che forse chissà un giorno vedrà sto video, mi definiva fin da bambina Alice nel Paese delle Meraviglie, e io l'ho pensata come una cosa tremenda, cioè tutto quello in cui io credevo, che un giorno avrei lavorato con i neonati, che un giorno sarei stata sicuramente una mamma in gamba, perché speravo di poterlo essere, io ero insicura, perché se mio padre mi diceva che io ero Alice nel Paese delle Meraviglie, porca misera, allora forse avevo un problema. E negli anni questa cosa, poi via via me la sono portata dietro, quindi quando qualcuno di voi penserà di avere un'idea strana a cui nessuno crede, proprio nello spirito TED, io voglio dire crederci fino in fondo, perché quando prendevo quei treni per andare a Roma, per fare gli esami, magari prendevo 30, ma non sapevo manco chi fossero i professori, io ci ho sempre creduto, e quindi questo è anche il messaggio che vi voglio mandare. Non sempre quando si pensa a una cosa strana che va controcorrente, quando teniamo un bambino in braccio e tutti ci dicono, ma basta, ma mettilo giù, è furbo. Ma perché abbiamo così poca fiducia nei bambini? Questa è una domanda che io non ho mai trovato una risposta. Perché abbiamo così poca fiducia in quello che loro ci comunicano? Si parla tanto di empatia, ci sono i corsi, ci sono i coach, c'è di tutto sull'empatia, ma ci siamo persi di vista una cosa, che l'empatia vuol dire il qui e ora. Non vuol dire io capisco cosa dici te o te e allora ok, sono d'accordo. No, vuol dire io mi spoglio del giudizio, io sospendo il giudizio, io mi metto in gioco col cuore e cerco di far comunicare i nostri cuori. E questo i bambini sono dei maestri a insegnarcelo. I bambini sono un'occasione strepitosa per poter entrare in contatto con i nostri cuori anche attraverso la relazione, che è la parola magica, affettiva, che creiamo con loro. Però nella nostra cultura ci viene detto no, il bambino bravo è quello che sta da solo, il primo possibile, dorme tutta la notte, il genitore bravo è quello che glielo insegna. Però tutto questo non trova sopporto nella scienza. E allora come si fa? Si fa che noi dobbiamo cominciare a pensare in termini di norma biologica e di norma culturale. Cioè la normalità culturale della nostra cultura è il bambino distaccato il primo possibile dal corpo e dalle braccia di chi si prende cura di lui. E mentre la norma biologica, cioè come siamo fatti, il fatto che io ho la gamba destra e ho la gamba sinistra, non posso parlare solo di una senza parlare dell'altra, direbbe che invece il contatto è proprio un bisogno primario. Posso dire un nome su tutti, John Bowlby. John Bowlby è stato il padre della teoria dell'attaccamento, uno psicologo di tanti anni fa, psicoanalista, e lui dichiarò intorno agli anni 60 del secolo scorso che l'attaccamento, il bisogno proprio di attaccamento, quindi di relazione, era primario. Per questo motivo lui fu radiato dalla società psicoanalitica. Era Alice nel Paese delle Meraviglie, basta, devi andare via. Sulla sua tomba nel 1990 ha fatto scrivere qui giace uno psicoanalista. perché lui sapeva cosa stava dicendo. E dovete sapere che John Bowlby ha scritto anche tanto sul sonno condiviso, cioè sulla possibilità di dormire vicino ai bambini, eppure in italiano queste cose non sono tradotte. Perché la barriera culturale che noi abbiamo è una barriera incredibile. Cioè non arrivano ai genitori di un certo tipo di cultura alcune informazioni. Quindi noi, noi dico di qua, abbiamo il dovere di essere un mezzo per questa informazione. Allora, i bisogni sono la chiave, la relazione affettiva sono la chiave, ma mio figlio in questo momento di cosa ha bisogno, cosa mi sta comunicando. Quando io dico ai genitori, ma secondo te di cosa ha bisogno? Ma io sono venuto da lei, me lo deve dire lei. No, il figlio è tuo, tu sei sua madre, tu sicuramente sai di più di me di cosa ha bisogno. Io ti posso dire come funziona il suo sonno, posso valutare se è un disturbo del sonno, ma non so in questo preciso momento di cosa ha bisogno il tuo figlio. E le mamme, di solito, i papà, li sanno i bisogni dei loro bambini, ma si sentono giudicati. Quindi ci saranno dei momenti in cui prevarrà il distacco, pensate alla nascita, è il primo grande distacco che ognuno di noi ha sperimentato nella propria vita, no? Si esce dall'utero materno, si esce da un mondo protetto per entrare in una miriade di stimoli e anche che sono molto difficili da decodificare per un neonato. Ecco, e in altri momenti prevarrà la norma biologica. Fino a tre anni noi sappiamo che l'esigenza di contatto è un'esigenza primaria, quindi la dobbiamo rispettare. Allora noi abbiamo bisogno di rispettare le emozioni che sono connesse a questi bisogni, ma non solo le emozioni dei bambini, ma anche le emozioni delle mamme, perché non si parla mai delle emozioni delle mamme, si parla sempre, si diventa mamme, non si fa la doccia, ma non ci si ascolta tante volte. E questo significa che noi superiamo il nostro limite, cioè quello oltre cui non dovremmo andare perché sennò poi rischiamo di arrabbiarci con i nostri bambini, perché loro sono bambini non devono essere adulti, ci deve essere un confine tra ciò che è loro e ciò che è nostro. Quindi anche le emozioni delle mamme sono importanti. Non abbiate paura se provate rabbia, se provate senso di colpa, se provate tristezza. È importante che queste emozioni possano venire fuori. Tutte le emozioni sono importanti, dobbiamo essere autentici. Questa è l'altra parola assolutamente che voglio portarvi oggi, perché molto spesso noi diciamo sì sì ce la faccio, no no ma ce la faccio, sì 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 va benissimo, ma non è vero niente. E i nostri bambini siccome prediligono più piccoli che sono la comunicazione non verbale, lo capiscono subito se c'è qualcosa che non va. Quindi c'è un'ambivalenza poi fra quello che noi comunichiamo a livello verbale e quello che loro vedono e tante volte hanno bisogno di autenticità a loro come abbiamo bisogno di autenticità a noi, di poter dire sono stanca, voglio fare una doccia. Allora, proprio in conclusione, noi abbiamo due sistemi che ci proprio dirigono il corpo che è il sistema dell'attacco e fuga, quello dell'adrenalina, quello della difesa, quello che ci fa scappare quando c'è un pericolo e tutti lo conosciamo, ma abbiamo anche un altro sistema che è quello della calma, della connessione, quello della ricompensa, quello del piacere. Secondo voi gli studi scientifici in che proporzione li esplorano questi studi? Provate a sparare un numero. Innanzitutto quale di più secondo voi nella nostra società che va di fretta, che corre, che mira sulla competizione e non sulla cooperazione? Quello dell'attacco e fuga. Sapete in quale percentuale? Nel 90% è stata fatta una meta-analisi da questa autrice Kerstin Uvnas-Mobberg, lei è una studiosa che studia l'ossitocina e l'ossitocina è una sostanza che tutti noi, uomini, donne, bambini, emettiamo e produciamo per la ricerca del benessere, della calma, della connessione, della ricompensa. Questa è la studiosa numero uno mondiale sugli effetti comportamentali dell'ossitocina, cioè su come noi la possiamo ricercare nella vita di tutti i giorni. Adesso facciamo un piccolo giochino, visto che sono l'ultima e vi tengo svegli. 30 secondi di abbraccio. Abbracciatevi. Abbracciatevi, alzatevi, fate quello che volete. Grazie. rimanete come volete, rimanete abbracciati. cosa è successo? Cosa è successo? Oh yeah, cosa è successo? Stiamo bene? Allora, ho solo due minuti e 53. Allora, questa signora ha scritto 400 articoli su come procurarci l'ossitocina, che non è una droga, una roba come vedete alla disposizione di tutti anche qui in questo momento, tre libri meravigliosi, neanche uno di questi articoli è tradotto in italiano e neanche uno di questi libri, ciò significa di nuovo che nella nostra cultura noi non sappiamo come procurarci il piacere in maniera semplice, così come avete provato ora voi con questo semplice abbraccio, soli 30 secondi, io sono diventata rossa perché proprio mi sento bollire, qualcuno di voi avrà sentito anche dei messaggi del proprio corpo, quindi noi possiamo fare questo, possiamo coltivare anche quell'altro sistema che deve essere in bilanciamento con quello dell'adrenalina, della calma e della connessione, l'ormone dell'amore lo chiamano l'ossitocino, ma l'amore in senso estremamente ampio perché mettere al mondo e curare anche a livello educativo dei bambini che sapranno che cosa vuol dire anche poter attingere alle proprie emozioni significa, ce lo dice l'epigenetica, non solo investire su di loro ma significa investire anche sui loro figli perché questo tipo di approccio passa alle generazioni, ma non è facile se non lo abbiamo avuto, ricordate la bambina che è in noi, sono proprio degli studi che ci dicono che è difficile cambiare il modello educativo col quale siamo stati educati e proporne un altro ai nostri figli. E questa è l'ultima diapositiva, chi ascolta le mamme? Vi voglio fare una domanda nell'ultimo minuto, qualcuno di voi ha mai sentito parlare se ci sono degli educatori qua della seggiolina dei pensieri? I bambini che vengono messi sulla seggiolina dei pensieri, bene due giorni fa o forse anche tre, ho chiesto a un bambino si chiama Manuel, ma te quando ti hanno messo nella seggiolina dei pensieri a cosa pensavi? A Spider-Man mi ha risposto, ha ragione lui, cioè qui bisogna imparare ad ascoltare tutte le persone, le mamme, i bambini, perché la seggiolina dei pensieri in realtà serve agli adulti per mettere uno spazio nel momento in cui si prova rabbia, ma al bambino non serve a niente, quindi ascoltiamo i bisogni dei bambini, ascoltiamo i bisogni degli adulti e proviamo a comunicarli, prevediamo del tempo per la comunicazione e per il confronto dei bisogni e dei sentimenti reciproci. Grazie.